Sì, ciao a tutti, adesso c'è il saluto finale di Beppe Grillo a chiudere questi tre giorni, veramente fantastici, una partecipazione straordinaria, ci siamo confrontati, abbiamo parlato, abbiamo scambiato idee, proposte con tanti, tantissimi cittadini che ci hanno chiesto cosa stiamo facendo all'interno delle istituzioni, tutte le istituzioni, dai più piccoli comuni fino al Parlamento, al Parlamento europeo, siamo veramente una grande famiglia, una grande comunità e questo è solo l'inizio di una bellissima avventura per riprenderci il nostro paese.